Intanto Andrea io ti ringrazio per la tua presenza, per essere sempre pronto ad aiutarmi, ad arrivare alle persone a far conoscere determinate tematiche che spesso per una questione di inconsapevolezza appunto le persone non sanno e commettono spesso gli stessi errori. Eppure se ci pensiamo, veniamo dalla cucina mediterranea, ma ce la siamo proprio dimenticata sta cucina mediterranea. Allora fammi capire, intanto partiamo proprio da questa domanda che è una delle prime. Perché ci siamo secondo te allontanati così tanti dalla cucina mediterranea, quella osannata nel mondo? Allora, la domanda è molto perfida perché mi stimola a dire cose cattive. Beh, ci siamo allontanati per motivi commerciali e ti spiego in maniera molto pratica perché la cucina mediterranea, o meglio la dieta a cui fa riferimento poi la cucina mediterranea, non è altro che la cucina dei nostri nonni. E che Ansel Kiss, quando venne a Napoli, proprio a Napoli, all'ospedale Cardarelli, a visitare l'ospedale per un motivo congressuale, lui da cardiologo, osserva che l'incidenza delle malattie cardiovascolari nella nostra bella Italia, e in particolare in tutto il bacino poi del Mediterraneo, quindi non solo l'Italia ma tutti i paesi che bagnano il Mediterraneo, vi era un'incidenza notevolmente più bassa rispetto a quella che era presente già in quegli anni negli Stati Uniti. Ecco il The Seven Study, la grande pubblicazione, che ha dato vita alla dieta mediterranea e nel 2010 è diventato patrimonio dell'UNESCO. Attenzione, abbiamo fatto un percorso per approdare a patrimonio dell'umanità, ma ce la siamo dimenticati perché i nostri, ovviamente competitor americani, ci hanno fatto comprendere che la pizza, il pane e la pasta sia la dieta mediterranea, cioè in realtà le treppi non hanno nulla a che vedere con la dieta mediterranea, perché nel Mediterraneo si consumavano i legumi, al centro della dieta mediterranea c'erano i legumi. Perché c'erano i legumi? Perché la coltivazione più semplice e più facile erano le verdure e i legumi, che potevano essere conservati per un tempo piuttosto lungo. Quindi la dieta mediterranea è verdure e legumi. Poi arrivò e arriva la cosiddetta carne bianca, il pollo, il coniglio, perché era l'allevamento semplice che all'interno del giardino poteva essere facilmente portato avanti dal contadino, perché gli animali di grossa taglia, come la mucca, come il maiale, erano destinati alla vendita e quindi non erano particolarmente utilizzate per il proprio consumo. Da qui nasce l'importanza della dieta mediterranea. Poca carne rossa, c'è della carne bianca, di animali ruspanti che consumano alimenti autocotoni del luogo e soprattutto tanta verdura, sempre tanta frutta e tanti legumi. Adesso entriamo sul discorso dei cereali, della farina e del perché poi è stata, diciamo, un po' sostituita la dieta mediterranea con quello che io chiamo una dieta pseudo-mediterranea. Perché? Perché il cereale dal quale noi ricaviamo la farina, ricordiamoci che il cereale è uguale farina, ma la farina di Ansel Kiss era il Kikov che veniva pestato con un mortaio all'interno quindi di una struttura che in genere era di pietra, che era una pietra scavata, poi veniva setacciata per poter togliere la pula dal grano e infine restava la farina, che in realtà era una farina grossolana, potremmo paragonarla a un tipo 2 di quello che oggi è in commercio. Ma attenzione, c'è una grande differenza tra il pestare il Kikov e isolare le parti del Kikov. Perché? Perché quando noi pestavamo il Kikov, la dieta di Ansel Kiss faceva questo, la sua donna, la sua moglie e la sua badante, preparavano la pasta, ma la preparavano con una farina intera. Io non parlo di farina integrale, perché integrale significa che c'è solo la crusca e manca il germe, ma farina intera dove c'era tutto il Kikov intero, compreso il germe, che è la parte più importante del cereale. Quindi, dieta mediterranea significa cereali a Kikov, ma Kikov intero, con la presenza del germe, che veniva utilizzato, diciamo, più o meno nel fine settimana si preparava la pasta e la pasta si preparava con la farina di questa tipologia, ma era una pasta fresca. Un'altra grande differenza, cioè la pasta... Anche la farina era fresca. Era fresca, perché? Quali sono i vantaggi? Poi vedremo i vantaggi da un punto di vista di salute. È che quando noi abbiamo una farina così preparata, non ha un tempo di conservazione lungo, perché è una farina viva. Dopo 15 giorni, nel periodo estivo, già ci sono le farfalline che vanno volando per casa. E quindi è una farina che non è industrialmente o commercialmente idonea. Ecco perché si è trasformata la dieta, parlavo prima, probabilmente di motivazione tipo commerciale. Quando tu hai un Kikov vivo, e vivo significa che lì, purtroppo, c'è il germe della vita. Ecco le farfalline che noi troviamo dentro casa, o all'interno del pacco stesso di farina. E qualche suggerimento che do io sempre, le farine vive vanno conservate in frigo, non vanno messe nella credenza. Quindi, dieta mediterranea, di Anselkis, erano le verdure, erano i legumi, e poi i legumi, assieme ai legumi c'erano i cereali a chicco intero. Cereali a chicco intero per essere poi trasformati in farina per diventare pane, pasta, ma pasta fresca. Perché pasta fresca? Perché la pasta, quando viene trattata ad alte temperature, la presenza degli oli che sono presenti nel chicco intero, degli zuccheri presenti nel chicco intero, avviene un fenomeno che si chiama glicazione. Quindi si vanno a produrre delle proteine glicate. Più la temperatura è alta e più è veloce il tempo con la quale la pasta viene essiccata, più si producono queste proteine. Si chiamano AGES in termini, cioè l'acronimo AGES. Praticamente significa che quella pasta è una pasta che tenda a favorire l'infiammazione nel nostro corpo, cioè accende, quando entra nel nostro organismo, accende dei geni che producono delle molecole che determinano l'infiammazione. Noi sappiamo che l'infiammazione purtroppo è un danno. Allora, la pasta essiccata all'aria, così veniva fatta, impastata, farina, con l'acqua, veniva poi col matterello steso, veniva fino a che si amalgavava, si faceva strisce oppure si potevano fare i ravioli, qualsiasi tipologia di pasta, poi doveva essere essiccata, veniva lasciata sulla tavola, su una tavola di legno, in genere era legno d'olivo, e lì si attende che venga l'essiccazione. E veniva poi consumata. Il tempo di cottura di questa pasta, quando la pasta è fresca, è di due o tre minuti, lo sanno bene, chi, diciamo, delle nostre donne che cucinano, che la pasta fresca ha un tempo di cottura più basso. Quindi la possibilità che si crea quella reazione di glicazione è molto ridotta. Ecco l'importanza della dieta mediterranea, quella di conoscere che cos'era la dieta secondo Anselkis. Secondo Anselkis, leggendo i libri originali di Anselkis, parla proprio del setacciamento delle farine appena preparate. Cioè significa che se la sono fatta sul momento, almeno in mulino, in casa, tanto per intenderci. Quindi la dieta mediterranea non è pane, pasta e pizza, ma è verdura, frutta e legumi, o tra i cereali. Principalmente, principalmente. Poi certo, occasionalmente ci stava anche, anche perché ai tempi costava andare a prendersi altre cose.